Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante saggio appena pubblicato dal mulino, dal titolo Medioevo Migratorio. Mobilità, Contatti e interazioni in Italia nei secoli V-XV di Armando Orlando, che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite, al quale come mia abitudine non rubo altro tempo perché voglio ascoltare tutto sul Medioevo Migratorio. Prego professore, a lei. Va bene, grazie. Intanto un buongiorno a tutti. Ringrazio ovviamente Maurizio Calì e l'Associazione Culturale Italia Medievale per avermi invitato a presentare questo libro. È un libro che nasce da un filone di ricerca che, come dire, sto da tempo frequentando, che mi è da tempo caro, cioè quello delle migrazioni e della mobilità in epoca medievale. Così, per fare un po' un quadro, mi sono in particolare occupato di migrazioni in ambito mediterraneo, con attenzione soprattutto, diciamo, rivolta verso Venezia. Venezia, che come sapete un po' tutti, era alla fine del Medioevo una delle più grandi metropoli del Mediterraneo e dell'Occidente cristiano. Arriva a contare a fine 400, inizi 500, tra i 120.000 e 150.000 abitanti. E nel 2014 è uscito un volume, appunto, di ricerca che metteva, come dire, faceva il punto su una lunga ricerca su queste tematiche, pubblicato sempre dal mulino, che si intitolava Migrazioni Mediterranee, migranti, minoranze e matrimoni a Venezia nel basso Medioevo, che, come dire, in qualche modo ha rappresentato per me un punto di arrivo, era appunto una grossa ricerca, ma anche di ripartenza poi in questo filone, appunto, di studi. Ecco, è evidente che, come dire, su queste tematiche c'è in questo momento un grande interesse storiografico. Questo tema delle migrazioni, proprio sulla spinta emotiva delle preoccupazioni attuali verso un fenomeno che è complesso, che è, direi, anche molto divisivo, come, appunto, lo spostamento di popoli, di persone, in tutte le epoche, non soltanto il Medioevo, come dire, è un argomento che, come pochi altri, sembra capace, soprattutto di stretta attualità, sembra capace, appunto, di condizionare la politica, di influenzare le economie, direi anche di, in qualche modo, di destabilizzare le coscienze. E quindi, ecco, le comparazioni con il passato, come direi io, soprattutto con un passato così remoto, così scivoloso come il Medioevo, io ritengo che siano sempre molto difficili, siano pericolose e a volte siano anche fuorvianti. Però sicuramente, ecco, la proiezione, la proiezione del fenomeno sulla più stretta attualità, cioè questa, come dire, dimensione, questa attualizzante, appunto, di queste tematiche, di queste tematiche, in qualche modo, è stata uno dei motivi, non sicuramente l'unico, non sicuramente il primo, ma è stato uno dei motivi per cui, come dire, mi è sembrato necessario mettere mano ad una sintesi, che è appunto questo Medioevo migratorio, ad una sintesi della storia delle migrazioni e della mobilità in Italia lungo tutto il millennio medievale, che, come dire, era in qualche modo fino ad oggi mancante, non c'è ancora, non esisteva ancora una sintesi di questo tipo. Ecco, la storiografia in realtà, come dire, negli ultimi decenni, gli ultimi quarant'anni soprattutto, ha prodotto una abbondante e anche, direi, molto qualificata letteratura sull'argomento. Però poi, come dire, vari motivi scoraggiavano la produzione di un lavoro di sintesi che tentasse, come di fatto ho cercato di fare io in questo libro, tentasse di fissare, diciamo, quantomeno le coordinate di base, le tematiche di fondo di questi movimenti migratori medievali. A dissuadere, dal mio punto di vista, non era solo la vastità della materia e appunto questa ampia produzione storiografica, ma direi anche e forse soprattutto, forse in primo luogo, la difficoltà di mettere insieme periodi e fenomeni in apparenza così diversi tra loro per natura, per dimensioni, per scala e per impatto sociale e per impatto sulle società del tempo. Cioè, il mio problema era di partenza. Come tenere assieme le grandi migrazioni di popoli dell'alto medioevo, per intenderci in Italia gli Ostrovoti o i Longobardi, spesso presentate come fenomeni dei caratteri del tutto, diciamo, peculiari, del tutto irriducibili, ecco, come metterle assieme con il popolamento, per esempio, arabo-musulmano o normanno del pieno medioevo, ma soprattutto poi come legare questi movimenti, che sono movimenti di massa, di popoli, con la mobilità umana del basso medioevo, che invece è contrassegnata da spostamenti piuttosto di gruppi o di singoli individui. Ecco, la prima risposta quindi che mi sono dato, che può sembrare una risposta banale, ma non credo lo sia, ed è, come dire, il motivo per cui ancora oggi la questione migratoria è al centro dell'attenzione e delle preoccupazioni della nostra società, e lo vediamo quotidianamente, anzi in questi giorni più di prima, è proprio la continuità del fenomeno, la sua ripetitività, ripetibilità, e quindi la sua costanza e la sua costante presenza lungo tutto il millennio medievale. Cioè, come dire, se c'è una cosa che accomuna tutto il millennio, sono proprio questi movimenti migratori. Più importante però forse mi è apparsa una seconda risposta che in qualche modo ha messo in luce, ha evidenziato ultimamente la storiografia. Cioè, se misurata in termini di scambi umani, di innesti interetnici, di intrecci, di interazioni culturali, quindi non solo in termini, come spesso si era fatto, di impatto politico, sociale ed economico, ecco questa prospettiva di scala, quindi i grandi gruppi da una parte, i piccoli movimenti da un'altra, perde di significato. E questi diversi fenomeni migratori, di questi tanti medioevi italiani, diventano, o a me sembravano, in qualche modo comparabili e tra loro collegati, tanto appunto da poter essere compresi in una narrazione comune, come ho tentato di fare. Ecco, una volta caduto questo scoglio delle dimensioni, ogni forma di interazione, da quella individuale, appunto a quella delle grandi masse, acquisisce in qualche modo una stessa, una medesima dignità. Ecco, non voglio, come dire, non voglio certo dire che le dimensioni, che i numeri sono importanti, ecco, questo è chiaro. Però ecco, possiamo anche, come dire, bypassare questo problema delle dimensioni, perché tutte queste intrecci, tutte queste, diciamo, contaminazioni, contribuiscono comunque a provocare innesti di civiltà, cambiamenti di cultura, ibridazioni etniche, che sono argomenti su cui io cerco di soffermarmi, appunto, in più punti del libro, nelle comunità, nelle società di ricezione. Quindi questo era un po', come dire, il punto di partenza e i miei problemi quando ho cominciato a ragionare su questo libro. Ho dovuto quindi fare delle scelte di fondo molto precise, cioè muovermi tra queste varie forme di mobilità espresse dal medioevo migratorio senza, direi, troppo rigide sovrastrutture concettuali o semantiche. Nel senso che per tentare una sintesi di un argomento, appunto, così complesso e così evocativo, proprio perché impregnato, come dicevo, così impregnato, come dicevo all'inizio, di attualità, di umori, di impressioni, di sospetti, come appunto le migrazioni medievali, come dire, mi è sembrato opportuno liberarmi, per quanto possibile, di tutto quanto potesse inibire il racconto o condizionarlo eccessivamente o costringerlo, appunto, all'interno di coordinate troppo precise, troppo severe, troppo restrittive. In questo modo, diciamo, diverse barriere sono venute a cadere, quasi naturalmente, i numeri, dicevo, le distanze, ma anche le cause, le tipologie, la cronologia, appunto, che sono diventate delle variabili, variabili ovviamente importanti, che sono, come dire, tengo sempre presente nel libro, ma, come dire, senza più rappresentare dei paletti insormontabili e quindi imprescindibili per definire, appunto, per misurare, per narrare queste migrazioni. Il primo impedimento, come dicevo, che è venuto a cadere è stato proprio quello della cronologia, cioè nel senso che, pur consapevole delle differenze, direi quasi strutturali, tra la mobilità dell'alto e del basso medioevo, cioè, come dicevo, flussi migratori di interi popoli nel primo periodo e invece spostamenti di singoli individui o di piccoli gruppi nel secondo periodo, per quanto, diciamo, in progressiva crescita soprattutto nel Quattrocento, con le diaspole del Quattrocento, quindi, che ne so, l'espulsione di delle popolazioni in fuga dai Balcani davanti alla minaccia della conquista turco-ottomana, oppure dettate dalle diaspore religiose, per cui l'espulsione degli ebrei dalla Spagna, dal Portogallo, molti dei quali, appunto, poi aggiungono e arrivano in Italia. Però, come dire, pur tenendo presente di queste differenze strutturali tra i due periodi, nel libro ho cercato di coprire l'intero periodo medievale, senza farmi quindi troppo imbrigliare da cesure periodizzanti. Pur essendo io un basso medievista, come dire, ho cercato di dare un quadro completo. Ecco, con la cronologia sono poi saltate, appunto, dicevo, le dimensioni della distanza, del tempo, della consistenza numerica, nel senso che non ho fatto nessuna distinzione, soprattutto, come dire, qualitativa, tra micromobilità, la mobilità a breve raggio e, invece, come dire, le migrazioni sulle lunghe distanze, ritenendo che solo queste ultime, in quanto spesso implicavano un allontanamento definitivo o una rottura, appunto, con la patria d'origine, in qualche modo godessero di uno statuto giuridico o morale superiore, quindi fossero più degne di essere raccontate. E questo vale tanto più per il Medioevo, dove, come sappiamo, semplicemente attraversare un contado, passare, che ne so, dal contado di Pisa a quello di Firenze o dal contado di Mantua a quello di Bergamo o di Cremona, in qualche modo significava abbandonare il proprio paese e trasferirsi in terra straniera. Un pisano a Firenze era uno straniero, per intenderci. Ecco, nemmeno ho fatto troppe distinzioni tra migrazioni temporane e migrazioni permanenti, perché entrambi implicavano, seppure appunto su archi temporali diversi, spostamenti, cambiamenti, perdite, adattamenti, che poi si percotevano sia sui migranti che sulle comunità di arrivo e di partenza. E quindi, come dicevo, anche la dimensione di scala ha perso di consistenza e spessore. Se misurate appunto in termini di scambi umani, di innesti interetnici, di intrecci, di legami interculturali, i numeri, come dicevo già all'inizio, i numeri a me sembra perdono in gran parte di significato e ogni forma di interazione, da quella appunto individuale a quella dei gruppi o delle grandi masse, acquisisce, come dicevo, una propria dignità, contribuendo a provocare quindi innesti di civiltà, cambiamenti di culture, ibridazioni etniche nelle società appunto di ricezione. Ecco, da ultimo poi anche, come dire, ho cercato di utilizzare i termini, quindi anche qui non lasciarmi troppo condizionare dal lessico, il termine migrante, ma anche forestiero, ma anche straniero, nella sua accezione polisemica, più ampia, che quindi inglobava, ovviamente con tutte le contraddizioni e le congruenze del caso, inglobava una pluralità di contenuti e di significati. E per cui nel libro troviamo il migrante economico, ma troviamo anche l'esule politico, troviamo il clandestino, ma troviamo anche il grande mercante o il professionista lontano da casa per periodi più o meno lunghi, troviamo il vagabondo, ma anche l'intellettuale girovaco, troviamo il fuggitivo per motivi di religione, ma anche il profugo di guerra. Se posso, come dire, velocemente un po' spogliare l'indice, sono appunto tutte tematiche e sono tutte figure che poi vengono rappresentate nel libro, per cui comincio all'inizio ovviamente con questi movimenti, con queste migrazioni di popoli, gli ostrogoti e i longobardi, poi il popolamento del periodo pieno medievale, quindi gli arabi in Sicilia e i normanni nel sud Italia, e poi comincio a delineare queste appunto figure di migranti, per cui il migrante economico legato alla nuova spinta colonizzatrice dopo quella che la storiografia continua a chiamare la rinascita dell'anno 1000, i processi di inurbamento delle città e che cosa hanno comportato appunto a livello di spostamenti e di migrazioni. Il grande fenomeno, e forse l'unico fenomeno, diciamo, di migrazioni fuori dell'Italia, non all'interno, il grande fenomeno dei lombardi all'estero, quindi di tutti questi grandi mercanti, grandi banchieri, grandi finanzieri, che si spostavano per ragioni di mercatura, per ragioni di finanza, all'estero e soprattutto i lombardi nell'Europa, diciamo, occidentale, ma non solo, per cui troviamo ancora una Rue de Lombard a Parigi o una Lombard Street a Londra, solo per fare degli esempi, ma per esempio genovesi e veneziani in tutto il Mediterraneo e non solo, perché anche genovesi e veneziani poi li troviamo anche nelle Fiandre, a Bruges, a Londra e così via. E poi, come dire, appunto la mobilità legata al lavoro, quindi i migranti economici, le migrazioni studentesche, quelli che chiameremmo forse anche oggi i cervelli in fuga, le espulsioni politiche e quindi la stagione del fuoriscitismo e che cosa ha determinato appunto a livello di movimenti migratori? Pensiamo appunto alla Bologna dei Lambertazzi, ma soprattutto alla Firenze di Brunetto Latini e di Dante, di cui abbiamo celebrato l'anno scorso i 700 anni. Pensiamo ai movimenti di ripopolamento poi trecenteschi provocati dalle crisi, dalle carestie e soprattutto dalla peste nera del 1348, quindi cosa ha innescato questo uomo che si fa raro a livello appunto di ripopolamento di queste città e di queste terre. Per arrivare, come dicevo, alle migrazioni mediterranee, quindi a questi movimenti, soprattutto dai Balcani verso le coste adriatiche dell'Italia, ma anche dalla Spagna verso per esempio il Regno di Napoli dopo la conquista aragonese del Regno di Napoli, le diaspore religiose e quindi soprattutto gli ebrei e i greci e poi concludo con un capitolo finale su queste grandi metropoli multietniche dove appunto, come dire, che vivono e la loro prosperità è data proprio da queste dinamiche migratorie. Una città come Roma che cresce a dismisura nel 400 dopo che i papi si sono di nuovo trasferiti da Avignone appunto a Roma, cresce a dismisura passando velocemente da 20.000 abitanti a 60-70.000 abitanti. Questa crescita enorme è fatta quasi tutta di forestieri migranti che vanno ad abitare in questa nuova appunto capitale della cristianità. Quindi queste sono un po' le tematiche del libro. Ecco, per tornare, come dire, diciamo agli studi sulle migrazioni, diciamo che è stata completamente rivista negli ultimi anni, quindi completamente abbandonata, una visione tradizionale per cui si voleva che la società medievale fosse una società statica, sedentaria e invece è stata sostituita invece da una realtà segnata per diversi motivi. In parte li ho detti scorrendo un po' i capitoli del libro e cioè appunto guerre, pestilenze, congiunture economiche, interessi commerciali, cambiamenti delle frontiere, espulsioni religiosi e altri ancora, è interessato invece da una intensa circolarità di uomini e quindi da flussi migratori di portata molto più elevata di quanto non si pensasse in precedenza. Ecco, direi però che la storiografia, e io un po' mi sono allontanato, ho cercato di allontanarmi da questo, ha privilegiato a lungo tempo un approccio però soprattutto di stampo di tipo economico o economico giuridico a questo fenomeno delle migrazioni. Solo di recenti invece l'attenzione si è progressivamente spostata e questo sicuramente sotto lo stimolo delle scienze sociali e dell'antropologia, si è spostata dagli aspetti più prettamente appunto economici o giuridici a quelli sociali, culturali, privilegiando quindi l'analisi, in una prospettiva di medio-lungo periodo, l'analisi dei processi insediativi dei migranti nei paesi di ricezione e quindi rivolgendo gli interessi ad argomenti quali l'integrazione, le dinamiche di socializzazione, i problemi identitari, le strutture di assimilazione e di acculturazione, gli istituti di mediazione e le interazioni culturali e anche religiose, confessionali e religiose tra i singoli e i gruppi. Ecco, in linea quindi con queste tendenze diciamo più recenti della storiografia, in questo libro appunto ho cercato di prestare particolare attenzione proprio a questi aspetti e quindi le solidarietà tra gli immigrati, le reti di relazione, i meccanismi di accoglienza e di sostegno, ma soprattutto diciamo quelle strutture di socializzazione, cioè il lavoro, il matrimonio, una famiglia, gli istituti di assistenza che, come dire, in qualche modo favorivano non soltanto l'immissione dei nuovi venuti, ma poi ne favorivano il radicamento, l'integrazione e quindi aprivano spazi di accettazione e di inserimento dei migranti appunto nella società di ricezione. Quindi l'obiettivo per me in qualche modo è stato, per ogni situazione che ho analizzato, che ho esaminato, non soltanto delineare i processi insediativi, le cause della mobilità, le politiche demografiche o la geografia dei flussi migratori, ovviamente, come dire, basilari per contestualizzare i temi affrontati, ma poi anche ho cercato di raccontare come i singoli e le minoranze interagivano tra di loro una volta appunto giunti nel luogo di migrazione, come comunicavano con le istituzioni e con il gruppo maggioritario, come percepivano se stessi e la società ospite e come poi agivano in contesti che poi dalle fonti noi vediamo che al di là di tutte le barriere, di tutte le differenze di cultura, di ideologia, di lingua, direi addirittura di confessione e di religione, come dire, erano contesti di stretta prossimità e di assidua frequentazione e quindi ho voluto in questo modo far emergere non soltanto i macrofenomeni e i legami ovviamente con la politica, con la congiuntura e con l'economia, dicevo indispensabili, ma anche far emergere quanto succedeva appunto in queste strutture sociali di base o nelle aree di interconnessione, cioè in quei margini, la storiografia usa molto ultimamente questo appunto concetto di margine, in quei margini appunto dove i confini culturali erano in qualche modo più rarefatti, le identità erano più porose e quindi dove gli spazi per i compromessi e le contaminazioni erano più accentuati, più ampi e quindi come dire erano margini più facilmente attraversabili. Vengo quindi un po' alle conclusioni nel raccontare appunto questo libro. diciamo io ho cominciato appunto a lavorare al libro con l'intento di trarre in 16 quadri quelli che un po' vi ho scorso dall'indice, altrettante rappresentazioni appunto delle migrazioni e della mobilità nell'Italia medievale, sia in entrata che in uscita. ho finito però direi forse in maniera inevitabile per tratteggiare 16 quadri, 16 scene di Medioevo. Le due cose infatti sono del tutto inscindibili. La storia del Medioevo, ma direi la storia Tukur, è anche e soprattutto storia appunto di migrazioni, di spostamenti, di incontri, di rimestamenti, di interazioni, quindi di fusioni, di contaminazioni continue e ininterrotte tra popoli, culture, lingue e civiltà appunto differenti. E questo vale soprattutto per l'Italia, per la penisola italiana, che sappiamo posta al centro del Mediterraneo, alla congiuntura quindi di tre continenti, Europa, Asia e Africa, da sempre, dall'antichità più remota attraversata da correnti migratorie e da spostamenti di popoli e persone che in qualche modo ne hanno poi ogni volta riplasmato e ridefinito le identità, il carattere, le personalità. Mi verrebbe quasi da dire il genio di questa civiltà italiana. Perché direi, dal mio punto di vista, su un fatto non si può in alcun modo dubitare, c'è questa natura ibrida, complessa, stratificata del popolamento dell'età di mezzo e quindi i caratteri così intimamente e direi strutturalmente mobili, dinamici, pluralistici e multiculturali delle tante civiltà, perché di civiltà al plurale dobbiamo parlare, del Medioevo italiano. Ecco, questo è stato un po', diciamo, la genesi e gli obiettivi che mi sono dato scrivendo questo libro. È molto interessante e anche molto istruttivo su come affrontare e vedere un fenomeno che in realtà c'è sempre stato. Certo. Però mi sorge una domanda. Ma l'Italia era attrattiva per la sua posizione geografica, ma lo era anche per la sua naturale disponibilità ad accogliere. Io direi per entrambe le cose. Però, come dire, va anche inteso che cosa dobbiamo intendere per disponibilità. Perché era in qualche modo, soprattutto questo, ma non solo, direi per tutto il Medioevo, era in qualche modo una disponibilità interessata. Dobbiamo, come dire, sempre ricordarci che, per esempio, ragioniamo un attimo su queste città italiane del pieno basso Medioevo. Sono città in cui, come dire, i tassi di mortalità sono sempre più alti di tassi di natalità. Per cui, come dire, per mantenere un equilibrio e anzi per aumentare, e spesso le fonti ci dicono e le cronache ci raccontano, che è il numero che fa l'abbondanza, che fa la ricchezza, che fa la potenza di una città. Ecco, per mantenere questi numeri in equilibrio o aumentare il numero, appunto, di queste popolazioni, necessariamente bisognava ricorrere all'immigrazione. Quindi era gioco forza, era, come dire, era una disponibilità, appunto, come dicevo, che aveva un sottofondo di interesse perché era del tutto funzionale proprio al sostentamento e al benessere di queste città e di queste terre. Quindi, come dire, certo, ovviamente la posizione geografica, la posizione geografica in qualche modo favorisce, ma l'ha sempre favorito, sin da tempi antichi e tutt'oggi è così e lo vediamo continuamente, la posizione geografica è fondamentale. Però direi anche una disponibilità di fondo, ma una disponibilità che, come dire, è in qualche modo dovuta proprio alle necessità contingenti, alle necessità del periodo. È un po' come ci raccontano anche oggi, no? Se non si... anche da noi l'indice di natalità scende in continuazione e tra un po' non si sa chi pagherà le pensioni dei giovani adesso. Difatti, quindi... Ma difatti, proprio per questo, dicevo, come dire, quella dell'immigrazione sono tematiche così divisive perché, come dire, si ragiona sempre, come dire, in termini di percentuali e di quantità di immigrati compatibili con le realtà, diciamo, economiche e sociali di questo periodo. Ma dobbiamo sempre ricordarci che siamo in un contesto in cui forse, forse, come dire, abbiamo bisogno di queste... di queste immissioni, di questi flussi migratori. Ovviamente vanno regolamentati, vanno disciplinati, ci devono essere delle politiche accorte e mi verrebbe da dire illuminate dietro a questi movimenti. Però non dobbiamo esserne spaventati perché, come dire, il passato in qualche modo ci invita a non essere spaventati di fronte a questi movimenti, a queste mobilità e a questi poi rimestamenti, a queste contaminazioni che poi hanno fatto sempre la ricchezza e la crescita e, come dire, sì, la ricchezza di queste civiltà anche appunto del Medioevo italiano. Quindi, non lo so, io non voglio, come dicevo all'inizio, non mi piacciono molto le attualizzazioni, però ecco, direi che forse, quantomeno, non dobbiamo essere spaventati di fronte a questi fenomeni anche se ovviamente vanno regolamentati, vanno disciplinati e vanno gestiti in maniera saggia a livello politico. Quindi a me non resta che ricordare il titolo del libro in modo tale che possano correre tutti ad acquistarlo per scoprire che cos'è stato questo Medioevo migratorio, mobilità, contatti e interazioni in Italia nei secoli V e XV, appena pubblicato dal Mulino e scritto da Ermanno Orlando, che abbiamo avuto il piacere di avere il nostro gradito ospite e che io ringrazio tantissimo. Grazie a voi. A voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove potete trovare tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato finora e spero di avere future occasioni di collaborare con lei perché è stato davvero un piacere. Grazie mille ancora. A voi, grazie mille, arrivederci. A voi, grazie mille, arrivederci.